È stata una bellissima partita, abbiamo fatto un buonissimo muro di pesa e abbiamo anche mantenuto alta la percentuale di efficienza in recessione. Siamo state grintose e non abbiamo mollato soprattutto nei momenti in cui la squadra andava un po' giù, non ci siamo lasciate prendere dal panico, ma abbiamo sempre reagito e siamo riusciti a portare un gran risultato a casa e abbiamo continuato questa serie di partite positive che comunque ci sta portando avanti. Grazie.